Sono contento perché un'opera che ormai ha quasi 50 anni, chi vuole vederli capirà anche un percorso, perché i film che ho fatto sono tutti in qualche modo riconducibili anche alla storia italiana in cui sono stati girati. A differenza di molti altri registi che hanno un momento di grande favore e poi magari nel corso della loro carriera perdono l'ispirazione, le pare che Marco invece ogni film che fa in realtà migliora. Io penso che Marco sia stato e sia uno dei registi italiani che più di tutti hanno portato il cinema italiano nel mondo e quindi l'ho ritenuto una cosa giusta, bella e sono venuto qua con grande entusiasmo. Lo stimo talmente tanto ed è talmente bello lavorare con bell'occhio che è bello a tutto tondo.